Arte. Arte, arte, arte. Ma che cos'è l'arte? Una domanda che mi ossessiona da parecchio tempo e di cui sto cercando con voi la risposta su questo canale. La mia idea è che la nostra idea di arte sia tutta sbagliata. Che cos'è l'arte veramente? La verità è che fin d'ora nessuno ne ha mai dato una definizione accettata univocamente. Bentornati e soprattutto benvenuti a tutti i colleghi umani nuovi. Io sono Thomas e siete appena approdati su The Monkey Coma. Qui come avrete capito si parla di tutto ciò che sta sotto quella brutta, bruttissima parola chiamata arte. Un termine usato ed abusato di cui nessuno sa veramente il significato. Questo significato qui lo cerchiamo, qui approfondiamo, qui siamo liberi di discutere e scardinare i dogni. Parleremo delle tecniche, parleremo del mercato, parleremo di attualità in chiave artistica e parleremo di opere e profili interessanti, talvolta veramente veramente di nicchia e sconosciuti. Parleremo d'arte, sì, ma d'ogni sua forma. Dalla pittura ai fumetti, passando per il design, la grafica e i videogame. Qui nulla è escluso a priori. Qui, in sostanza, si fa critica all'arte, non critica d'arte. Qui si analizza, qui si cercano le risposte. Come una scimmia in preda al coma, chiusa in sé stessa a riflettere sugli stimoli esterni, che la migliorano e ne faranno un perfetto collega umano al risveglio. Qui si va in coma, qui ci si evolve. Quindi, se anche tu sei una di quelle persone che si è stancata della retorica con cui si spiega l'arte, della ritorica con cui si fa arte, questo è il canale giusto per te. Qui cerchiamo di scardinare e approfondire, come già detto in precedenza. Sei la benvenuta, goditi i più di 30 video che ci sono già, presto ne arriveranno altri e, se hai ancora fame, se vuoi tenerti in contatto con me, prova a seguirmi su Instagram, dove sono molto più raggiungibile e dove posto quotidianamente. Detto ciò, ti auguro una buona giornata e, come al solito, pace, amore e noccioline.